Benvenuti, siamo sempre qui noi di Milano News al Climate Fest, un evento che dal 2 giugno dura fino a domenica. Oggi con me, Carla, della Scuola Toro Biodanza, siamo qui insieme al vostro stand, come potete vedere. Benvenuta! Grazie, è un piacere essere qui. Insieme a lei scopriamo che cos'è la biodanza e poi conosciamo meglio la realtà della Scuola Toro Milano. Biodanza è un termine che ci interessa, curioso. Di cosa si parla? Allora, biodanza significa danza della vita, quindi vuol dire danzare la propria vita, danzare l'espressione di sé nella vita. È una disciplina che arriva in Italia nel 1989 dal professore Rolando Toro Araneda, che era uno psicologo, un antropologo e un ricercatore delle scienze umane. È una disciplina che utilizza la musica, il movimento, il gruppo e la parola danza non viene intesa come danza con passi predefiniti, come potrebbe alludere. Invece si riferisce all'espressione dei movimenti naturali di sé attraverso la musica e il movimento. In biodanza è fondamentale la presenza del gruppo, perché attraverso il gruppo si facilita la conoscenza e l'espressione di sé. E l'obiettivo della biodanza è di favorire nell'essere umano l'espressione dei propri potenziali, affinché l'uomo possa stare in una situazione di benessere con sé, con gli altri, con la natura e con tutto quello che lo circonda. Quindi per partecipare a una lezione adesso ci spiegherà meglio come si entra a far parte di scuola Toro, cosa vuol dire praticare biodanza perché è una disciplina comunque. Cosa mi spinge? Non l'idea di imparare dei passi, ma il che bisogno? Quello che spinge è la possibilità di esprimere se stesso in maniera spontanea e naturale. E non devo avere alcuna preparazione? No, non è necessario saper danzare, non è necessario avere una formazione artistica nell'ambito della danza. Quello che è necessario è avere la voglia di esprimere se stesso e di conoscere profondamente se stesso, perché è una disciplina che ha lo scopo di favorire la conoscenza di se stessi in modo autentico. E come funziona? Perché è una disciplina che si pratica in classi, in gruppi, c'è per ogni classe un insegnante? Sì, allora c'è strutturata con dei corsi settimanali che si tengono una volta alla settimana, hanno la durata di un'ora e mezza circa e c'è a volte un insegnante, a volte due, ed è un percorso di difficoltà progressiva nell'approccio alla disciplina. Si inizia con degli esercizi semplici per progressivamente incominciare a danzare degli esercizi o delle danze un po' più complesse ed elaborate, però c'è una progressione specifica in ogni sessione. Mi raccontavate perché poi qui siete un team, siete un gruppo, siete molti che in questi giorni avete realizzato, realizzate degli eventi, magari ci focalizziamo su quello di questa sera di domani mattina alle 10, se non sbaglio. Questa sera alle 18, così per chi volesse partecipare e fare un salto qui al Parco Nord di Milano, può conoscere effettivamente la scuola Toro e la biodanza. Due parole sulla scuola Toro di Milano e come tutte le scuole di biodanza che ci sono in Italia sono strutturate della durata di tre anni, quindi è un percorso formativo dove si impara la parte teorica perché la biodanza ha dei fondamenti scientifici e poi c'è una parte pratica, una parte legata al tirocinio e alla discussione di una monografia, quindi c'è una struttura di formazione ben precisa. Oggi siamo qui perché alle ore 18 vogliamo proporre una sessione che si chiama Biodanza in famiglia e lo scopo è quello di riunire genitori e bambini per poter danzare insieme e lo scopo, l'obiettivo della biodanza in famiglia è quello di favorire la relazione tra adulti e bambini attraverso il gioco, perché attraverso il gioco c'è la possibilità di apprendere, di conoscerci e c'è una conoscenza reciprocata da genitore e bambini ed è anche un modo per far sì che l'adulto possa giocare con il proprio bambino in un ambito immerso nella natura e nella gioia perché le musiche portano anche a scoprire la gioia. E forse un cambio di prospettiva anche per i genitori che sicuramente sono sempre molto impegnati hanno così modo di ricongiungersi con i propri bambini in un modo che sembra più infantile e in realtà è semplicemente forse più facile, più divertente di abbracciarsi quasi. Esatto, perfetto, hai colto perfettamente, sì è un modo proprio per avvicinare e creare una relazione legata sulla comunicazione affettiva, legata sul gioco, su uno scambio non verbale ma che ha una comunicazione molto profonda perché attraverso lo sguardo, attraverso il contatto delle mani, attraverso la danza si comunica quelli che sono gli stati d'animo, le sensazioni, le emozioni. Allora per le famiglie questa sera alle 18 allo stand avrete sicuramente l'insegnante che potrà spiegarvi meglio andare nel dettaglio per quella che è la pratica che svolgerete insieme ma passiamo alle 20 domani mattina alle ore 10 sempre qui al vostro stand. Sì, domani mattina ci sarà una sessione di biodanza per adulti tenuta da Silvia Maddalena mentre oggi nel pomeriggio siamo 5 insegnanti, 5 operatori e lo scopo della sessione di domani mattina è quella di presentare, far conoscere il sistema biodanza alle persone che sono presenti qui nel parco. Prima di salutarci vorrei ricordare che la biodanza in realtà non è solo per bambini o adulti ma è per tutte le età. Esatto, ci sono gruppi per bambini come dicevo prima che noi portiamo progetti di biodanza nelle scuole da moltissimi anni poi la biodanza è rivolta agli adulti, è rivolta alle persone anziane, può essere rivolta a persone disabili cioè c'è una vasta gamma di opportunità perché i potenziali espressivi li abbiamo tutti e tutti abbiamo bisogno di esprimerci nel migliore dei modi. E forse anche il diritto di conoscerci meglio in qualche modo. Esatto, perfetto. E anche il diritto di conoscerci e di essere noi stessi in maniera naturale. Del resto è la biodanza, quindi la danza della vita. Esatto. Io ringrazio Carla, ringrazio tutto lo stand, il nostro insegnante della biodanza, della scolatura di Milano per saperne di più venite qui e noi vi salutiamo, Climate Fest Milano News. Grazie e buona serata anche a voi. Grazie.